Vorrei, nella luce del Tedeum, condividere un breve pensiero su Papa Benedetto XVI, che oggi sappiamo ha attraversato il mistero della morte. Papa Benedetto ha vissuto nel suo magistero questo Tedeum. Noi ritroviamo nella parola e nella testimonianza di Papa Benedetto il Papa della fede. Proprio lui indisse l'anno della fede, quasi dicendo che l'urgenza più grande per la Chiesa e per il mondo di oggi è riscoprire la fede. E la fede è proprio questo cantare la lode del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Signore dell'Universo. Papa Benedetto, il Papa della fede. Ma poi Papa Benedetto è stato il Papa di Gesù Cristo, profondamente cristologico. Tutta la sua teologia, uno dei più grandi teologi del Novecento, ha al cuore Cristo. E durante il suo pontificato ci ha regalato un'opera sulla vita di Gesù. Allora, Papa Benedetto è il Papa che ci ha indicato Gesù come Maestro e Signore della vita, come colui che siamo chiamati a seguire nella fedeltà. E infine, Papa Benedetto è il Papa dell'annuncio della gioia della vita cristiana. La ricchezza del suo ampio Magistero tocca i vari aspetti della vita umana, raccontandone lo spessore e lo sguardo del Vangelo, la verità del Vangelo, che si traduce nelle scelte, nella carità, nella vita di ogni giorno e nella gioia di essere cristiani. Allora vogliamo affidare al Padre la vita di Papa Benedetto, ringraziando per il dono che ci ha fatto in Lui a tutta la Chiesa, al cammino di tutta la Chiesa, fino ad oggi. E vogliamo riconoscere la grandezza di questo Papa nel suo essere pastore e teologo, maestro e umile amico e servitore, amico di Gesù e servitore della Chiesa. Chiediamo che anche Lui preghi per noi e accompagni il cammino della nostra Chiesa e il nuovo anno che ci attende.